Gentili telespettatori, buona giornata. La maggioranza di Draghi si allarga, l'apertura di Lega e Movimento 5 Stelle. Praticamente è per il sì alla fiducia di un governo Draghi tutto il Parlamento, tranne Fratelli d'Italia. Intanto l'elettorato salviniano si è spaccato a metà. Tra chi elogia Salvini per aver capito che è meglio star dentro per combattere per le proprie idee che stare fuori a criticare per due anni e chi invece lo accusa di aver tradito il suo elettorato, di andare a governare con Draghi visto come il male assoluto e con gli altri partiti di sinistra. Ovviamente il mio pensiero già lo avete capito. Dobbiamo continuare a far governare la sinistra perché o c'è un altro governo e bisogna stare all'opposizione oppure non si entra in un governo di unità nazionale e si sta volutamente fuori e così la sinistra continua a fare quello che vuole, le leggi che vuole. Insomma bisognerebbe fare una riflessione approfondita su questo punto. Ma domani cioè oggi parte un nuovo un nuovo giro di colloqui quindi il primo giorno di consultazioni di Mario Draghi si è chiuso cioè il primo giro di consultazioni. Oggi secondo giro al confronto anche con le parti sociali. Già mercoledì o giovedì potrebbe salire al colle Draghi per il giuramento del nuovo governo. Deve sciogliere la riserva ma avendo una maggioranza così ampia, enorme, praticamente tutto il Parlamento meno i deputati di Fratelli d'Italia più che sciogliere la riserva andrà a per il giuramento. Matteo Salvini come vi dicevo supera le incertezze, dice siamo a disposizione, non poniamo veti, non poniamo veti, non mettiamo condizioni. Anche se Matteo Salvini ha portato i suoi temi al tavolo di Draghi per fargli presente quello che vorrebbe realizzare la Lega. Naturalmente entrando in un governo ufficialmente si chiedono le cose che uno ha in mente di fare, mentre stando fuori non c'è la possibilità di chiedere nulla ma solo votare sì o no a quello che decidono gli altri. Non è la stessa cosa, non è uguale, è profondamente differente. Anche il Movimento 5 Stelle dichiara il sostegno dopo un vertice al quale hanno partecipato Giuseppe Conte e Davide Casaleggio. E così ha fatto un monologo Beppe Grillo di 45 minuti gridando dal quinto piano di Montecitorio che giù i giornalisti stavano lì cercando di ascoltare, sentivano grida e poi applausi e risate. Si è capito che non stava sgridando nessuno ma stava facendo uno show comico per 45 lunghi minuti. Ebbè, diciamo che il cui significato finale è poi riassunto in una massima di Platone. Non conosco una via infallibile per il successo, ma una per l'insuccesso sicuro. Volerà accontentare tutti. E così, questa ieri mattina Mario Draghi arriva alla camera, c'è l'incontro con la Lega, si riunisce il Movimento 5 Stelle. Vi voglio uniti e compatti, dice Grillo. Dobbiamo difendere i nostri temi e mettere l'ambiente al centro. Come vi dicevo, dalle finestre di questa sala tatarella si sentiva fino giù nella strada le grida e il vocione di Grillo, che propone di creare un ministero per la transizione ecologica, introdurre meno imposte alle società benefit, dare vita al Consiglio Superiore per lo sviluppo sostenibile, ridurre i sussidi ambientalmente nocivi, sono quattro i punti del mini documento programmatico che il fondatore 5 Stelle Grillo pubblica sul suo blog in un post dal titolo In alto i profili. Poi si conclude la frase dicendo che le fragole sono mature. Beh, intanto su Conte il suo futuro è misterioso, dice Conte, lo saprete. Probabilmente c'è l'offerta di fare il capo politico, probabilmente Grillo cercherà di fare questa nomina, non so in che modo, ma probabilmente vorrà togliere quell'insulso Rocco Crimi detto Vito dagli amici e metterci Giuseppe Conte. Quindi dice lo saprete, naturalmente che cosa può proporre Grillo se non il capo politico dei 5 Stelle, nient'altro. E sul governo dice non possiamo pensare agli interessi personali, tutte le questioni politiche sono ora in secondo piano. Sarà importante il perimetro della maggioranza, al momento non è importante sapere se io farò parte del governo. Intanto Salvini poi termina il confronto con Draghi e alla stampa la sua è un'apertura totale, con un dettaglio di non poco conto. Cambia anche il paradigma del partito stesso sulla politica estera. Siamo a disposizione, non poniamo veti. È stata una mezz'ora di confronto interessante e stimolante sull'idea d'Italia che per diversi aspetti coincide. Al centro del colloquio il tema della crescita, dello sviluppo, dei cantieri, delle imprese del turismo, del lavoro e non della beneficenza, del no all'uomento delle tasse e del no alle patrimoniali. Noi non poniamo condizioni, dice Matteo Salvini. Abbiamo parlato di Europa, non si tratta di essere europeisti o anti-europeisti. Se c'è da indifendere gli interessi nazionali vogliamo far parte di un governo che vada a trattare a Bruxelles a testa alta. E poi infine dice non è il momento dei no. Dalla Lega ho un sì convinto o nulla. Non chiediamo posti, deciderà Mario Draghi. Anche Rocco Crimi dice ci saremo con lealtà. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità a prendere parte dell'esecutivo. Se ci sono altre condizioni, questa disponibilità la verificheremo quando ci vedremo con il premier incaricato Mario Draghi per comprendere il quadro partendo dai temi. Il nostro obiettivo è portare al centro i temi e poi ribadisce che serve una maggioranza politica che possa sostenere un governo. Un governo solido. E poi arriva la smentita dell'imbarazzo del PD per l'ingresso della Lega al governo. Ma voi sapete che loro smentiscono, quindi prima dicono cose e poi fanno altro. O prima pensano una cosa e poi smentiscono. Ecco, questo è il modus operandi del PD di Nicola Zingaretti. I panni sporchi si lavano in casa, non si spiattellano alla stampa antetempo. Ecco. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi auguro buon proseguimento di giornata. Siamo anche in Facebook, in Internet, in un'altra pagina di YouTube, Teleitalia, seconda rete. Grazie per avermi ascoltato nuovamente. Se volete il prossimo video tra circa 20-22 minuti, sempre su questo canale. Arrivederci a tutti. Grazie. Grazie.